La cultura dello scarto provoca scarti non solo dell'uomo e della persona ma anche, come ci dice Papa Francesco, dei generi alimentari. E questo grida, tra virgolette, come si diceva nel vecchio linguaggio teologico, vendetta a cospetto di Dio dinanzi a milioni di persone che ogni giorno muoiono di fame. Ma attenzione, muoiono di fame non perché il destino è funesto contro di loro o muoiono di fame perché hanno avuto una maledizione, una sciagura. No, muoiono di fame perché l'Occidente, come dice Paolo VI nella Populorum Progressio, l'Occidente ricco e consumista impoverisce i paesi poveri, ruba, ruba, sì, questo lo dico io, ruba dai paesi poveri. Noi molte volte ci facciamo prendere anche giustamente dalla voglia di portare, di dare delle cose all'Africa piuttosto che all'Asia, piuttosto che ad altre zone del pianeta povero. Eppure noi dovremmo renderci conto che più che dare, noi dovremmo restituire a questi paesi. Pensate allo sfruttamento coloniale di tante potenze occidentali nei confronti dell'Africa, nel passato ma ancora oggi. Quindi restituire. Ma mi piace dire e rileggere, meglio leggere, quello che Papa Francesco diceva proprio subito dopo aver parlato di questa cultura, dello scatto che ci porta a non avere più nemmeno il rispetto per le persone che muoiono di fame. Una volta, dice Papa Francesco, i nostri nonni erano molto attendi a non gettare nulla del cibo avanzato. Abbiamo già detto qualcosa ieri su questo. Il consumismo, dice Papa Francesco, ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore che va ben al di là dei meri parametri economici. Un'altra mia riflessione, che dovrebbe venire da questa cultura dell'attenzione, da questa cultura che deve farci combattere la cultura dello scatto in ogni senso e in ogni ambito. E' che ci viene appunto da un discernimento, se siamo capaci, di discernere le nostre scelte dalle influenze, soprattutto della logica consumista a cui noi siamo sottoposti. Perché oggi i piccoli generi alimentari, i piccoli negozi, chiudono sempre e si aprono sempre più queste grandi catene commerciali, grandi negozi, grandi supermercati. Perché? Io preferisco più il negozietto, il quale sì, è lì per vendere, ma non è lì per indurre, proprio attraverso tecniche psicologiche studiate per indurre a comprare. Perché se notate bene, quando si entra in un centro commerciale, tutto è predisposto in funzione di alimentare in te, in te, l'acquisto. E vivere la cultura, combattere la cultura dello scatto, vuol dire anche evitare e discernere da queste influenze e fare gli acquisti giusti, gli acquisti equi e gli acquisti che rispettano anche la natura delle persone. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!